Musica Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Attento a quei due Finalmente con un bel e nuovo episodio Ovvero l'episodio 8 E siamo pronti per l'esplorazione di questa bella grutta Che abbiamo trovato nello scorso episodio Valerio non parlare veloce perché sennò diventi Cosa divento? Antipatico Ah si Non voglio diventare antipatico Comunque come abbiamo detto nello scorso episodio Abbiamo comunque portato parecchia roba presso Fortunatamente Anche se ho sbagliato a portare tutte ste cose Però Fortunatamente riesco a fare Vuoi tornare a casa? Ti sei preso la mia roba? Dammi la mia roba Non abbiamo nemmeno le coordinate di casa E torna un attimo tu Ti ricordi la strada? Devo tornare io Io non mi ricordo niente Eh si ma c'è la mia roba Eeeh Scusiamo Corriamo Corriamo Ciao Ma che tengo di due? Non lo so Eh il Si c'hai due cose Il legno Non mi ricordo poi Va bene Nel frattempo ti faccio l'armatura di ferro Va tu cerca casa Allora mentre lui cerca casa ragazzi Vi devo dire una cosa Allora Noi non è che siamo così intelligenti Noi abbiamo perso casa Perché ci siamo dimenticati di disegnare le coordinate Siamo intelligenti Allora forse è meglio che vedo Perché? L'armatura di ferro Ah si ma vado io perché mi ricordo pure dove sta Ma io mi ricordo dove sta cosa eh E tu perché mi hai fatto andare a me? Non lo so Tu hai detto che volevi andare Ti ho detto vado io Tieni comunque Vai vado a prendere le coordinate così sei soddisfatto No non prendere le coordinate Fai la foto Ma mi ricordo So dov'è Vai Seguimi Vai intelligenti Si chiamano intelligenti Lui è il google maps Si C'ho google maps in mente Nella mente Google maps in mente Seguimi seguimi Ah vado sei una ragazza viziata Questo è il tuo problema Poi dobbiamo andare tutto qua Tutta sta strada Francia Noi abbiamo fatto tutta la strada Dritta Eccola 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 L'hai vista? Eccola Si ma ci sono i mosti che ti stanno inseguendo Non fa niente Si ma mi sta ammazzando Ok l'ammazzato Corri Corri Arcanthos Corri Arcanthos Ah dove che ci hai fatto tornare indietro? Andiamo Aspetta Idiota La casa è più importante Vabbè fai tu vai Io torno lì Sei una capra Non hai nemmeno salutato Salutato chi? Che cosa? Tre scheletri Ragazzi Ci nascondiamo Nell'erba Non ci hanno visto Uno scheletro ci ha visto però Bene Ma da quanti mostri Dove è la grotta? Arcanthos dove sei? Arcanthos 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 Adò Stai andando di nulla Ah stai andando? Ok io già sono partito per questa grande esplorazione Sono morto Perché non mi credi? Perché Ma ce l'abbiamo a me nel cibo? Io c'ho solo due bistecche Io tengo 16 Ok Oh mio dio Non muro in maiale Lo stavo colpendo 50 volte Non era morto Però mi è morto Tu sei scarso No tu sei scarso C'è uno scheletro dietro di me Però io ho fatto finta che non c'era Credo che si sia un po' irritato che ho fatto finta che non c'era Madonna Meglio che mi nasa Cammino con il culo a terra Oh mio dio C'è un ragno Non lo so se mi ha visto Si mi ha visto Ragno di merda Ragno di merda Ragno di merda Mori Solo le scarpe Ma perché no? Il ragno no Oh mio dio Il ragno Era fermo E si è fatto ammazzare come niente fosse 3 tigri contro 3 tigri Ma che stai dicendo? Vieni muoviti Aspetta Sono 4 minuti Perché tu sei idiota? Aspetta Cosa mai velociziamo? Mi ha caso mai Ma vediamo dai No 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 Velociziamo Ma facciamo sempre questo Ma che vuoi? Dammi dai Ma ti ricordi almeno dove stai andando? Si va Io non mi fido di te Mi chiamavano Cristoforo Colombo Si Infatti non sapevo nemmeno dove stavo a casa Si hai visto prima Ma tu sei arrivato? Io sto già lì E dammi le coordinate Aspetta Madonna X754 Y67 Z122 522 scusami Ho detto 522 522 X755 Z522 Io ti riporterei solo perché stai facendo tardi Peccato che non sia League of Legends questo gioco Non ti posso riportare e fatti bannare Maledetto Ma da qui c'è tanto da esplorare Ecco qua Ah ma c'è un'altra strada per entrare C'è la lava Oh lava Lava come lava Dove sei? Sto qua Vabbè fai tu la strada che sei più bravo Se no io muoio Cado giù e muoio Mi sono messo a cuocere la carne Comunque Mi porto Il banco da lavoro E la fornace appresso Cioè non credo che sia un buon punto Rimanerla qui Quindi Ci troviamo un punto di controllo Giù E mettiamo tutta questa roba Che comunque ci può servire Come zona Diciamo Cosa? Dove sta? Dove sta? Non lo so io sto fermo Ti sta colpendo Dove capi dove? Dove sta? Ma tu muori così? Tengo un Tengo Solo un cuore Ah ti ha levato un cuore Dove sta? Non lo vedo Ah sta lì Sta lì l'ho visto Oh sta Dove cazzo sta? Verso Dove sto guardando io Credo no Sei a nord Aspimo ti dico Come si vede? Io sto morendo Perché mi sta colpendo Non fatti colpire Ho messo il muro Ah ok Ok non dovrebbe dare problemi Credo Se mi hai messo il muro Lo vedi tu? No Ah perfetto Non lo vede C'è cato Ma stava qua Peccato che non ci abbiamo l'arco Dobbiamo farlo Quante corde Quante corde servono? Eh tre Eh ce l'ho E fallo Aspè Ah Però poi il Non ci abbiamo le frecce Giustamente Ah Come si faceva l'arco? Non mi ricordo Ah eh Mi sono dimenticato Aspè Devo prima fare i bastoncini di pesce Devo fare la forma Devo fare la forma? Nell'arco Ah ok Sì che bella forma ho fatto Meglio che non guardi il mio video No io devo guardare il mio video Per vedere la forma Come l'ho messo è stupendo Perché io l'ho immaginato così Oh ma quanti cazzo di mostri ci sono in questa grotta? Cioè mi Cioè mi Cioè mi Cioè mi Cioè mi Occhio che c'è uno zombie piccolino Credo Eh ma io Aspè devo mangiare Perché se no La fonte dell'acqua lo rimaniamo no? Perché così ci protegge E rimango qui le cose Oh mi rimango qui Qui il banco da lavoro E la fornace Ci metto anche il carbone Casomai Ci ho messo 29 Che cosa? Di carbone Aspè la lava non chiuderla Perché ho il secchio L'ho portato a posto Per prendere la lava Eh bene Anche se non serve a molto Il secchio Eh vabbè però serve a qualcosa Cioè abbiamo un obiettivo Non ti dimenticare Quale obiettivo? Non mi ricordo lo sai? Nessun obiettivo che ha a che fare Davvero? Anzi no Un secchio di lava No Un bagno di secchio di lava serve Per fare il Il coso di Dei polvi No La farm dei polvi Eh appunto Hai visto? Hai visto la Gaia? Come Gaia scendeva Guarda Ciao Gaia Ciao Gaia che scende Gaia che scende Questa è la nostra Ciao Gaia Gaia scende E non ci invisco Boh Che brutta persona eh Abbiamo degli amici molto Simpatici Anzi buoni Ci invitano in parecchie feste Party Infatti si vede che abbiamo tante cose da fare Sì Eh E non siamo buttati vicino a dei computer Eh A fare le stronzate come fanno quei nerd la zaccati Come si chiamano la che fanno Youtube Eh bravo Youtubers Ma chi sono? Non so neanche cosa siano Eh non sai dire Oh l'arco L'arco Eh l'ho trovato all'arco Come hai fatto a trovare l'arco? Sì L'ho trovato all'arco Eh qualche scheletro Sei suicidato forse L'ho ucciso io Ah l'ho ucciso Ti ha spavolato l'arco? Eh Ma che mazzo Ah buona è tutto spavolato Sicuramente Cioè è sempre così Aspetta mi metta qualche torcia anche io Non sto facendo un cazzo Sto vedendo a te come lavori Eh tu sei Boo Boo cosa? Ah tu Io sapevo che andava a finire così Io faccio tutto così Sì 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 ti piacerebbe vero? Dire una cosa No non è così Non mentire Così È così Così Ma non c'è un Lascia Ma lascia che io sia Il tuo spirito Perché spirito però? Perché tu sei Vedi davanti alle palle Capone mediterraneo Sei un car... Che? Un cafone? Mediterraneo Perché mediterraneo? Ho trovato una mega grotta qua Forse c'è qualcosa di buono Sei dove sto io? Arcanthos? Sì sì ho visto Sei il carbone? Eh io sto prendendo il ferro Dai che un giorno Riusciremo a completare Tutti i nostri obiettivi No Wow guarda quel ragno Con gli occhi russi E' proprio fatto bene In che senso? Ah comunque è bella grande Però non ci siamo portati Le torce Ma tu il legno ce l'hai? Sì Eh il legno Il legno ce l'hai? Eh dipende Le facciamo qua le torce Sì c'ho tutto C'ho cinque pezzi di legno ancora Creeper di troia di tua mamma Che è successo? C'è in su red Ma dove stai tu? Sto più grande Ma dove stavo io? Eh però io non sto Cioè sto vedendo Solo se è abbastanza grande Non sto prendendo niente Ah sì c'è un sacco C'è un Come cazzo si chiama sto cosa? Voglio mettere le torce Così non spawna nessuno Ah c'è un Quel coso che salta sempre Che sembra burro Eh lo slime box Eh slime Eh slime sì Ma non mi ricordo come si chiama Ah no Ma che c'ho cristo Di gioco Minchia quante norme è sta grotta Oh sta stanno l'enderman Dove? Là Dove stai tu? No non sei Sicuramente Oh come hai fatto salire questo? Ah 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 Ma dove stai? Aspe Oh grip di Ma va fa mo cacchina a morto C'è in su red Io ti ho visto che saltavi in va in aria Ma enorme sto posto Aspe ma come facciamo a tornare indietro? Non mi ricordo la strada No Già mi sto dimenticato Finalmente ragazzi Sì siamo riusciti a trovare qualche posto Che c'è un posto che più o meno era desiderato da me Ora faremo una bella anzi grande esplorazione Ma se vedi io ce l'ho esplorato un sacco Sì ma io sto prendendo la roba Cioè o esplori tu o esploroi Io sto esplorando Eh non puoi dire così È ingiusto È ingiusto Ma tu ritieni le cose là Dipende cosa? Che si chiama? Le cose? Cosa? Eh non mi ricordo nemmeno Una scimmia? Una scimmia C'è cinque pezzi di legno Eh dobbiamo fare le cose Cosa? Le torce Ma tu dove stai? Io sto qua Eh eh Sto prendendo i materiali Eh non ti Ma mi dividai le torce? Eh aspe ora te le do Te le faccio pure aspe Aspe no questa è terra Stavo stavo facendo le torce di terra Ti piacciono? Ti piacciono? Che cosa? Allora ora ti dico quante torce ho Ho 42 torce Tu dove stai? Che te le porto Ecco qua Ho trovato Ho trovato Morto Sei morto? No no Prima che vedi a me morire no? Morto Morto È morto Morto? Ma dammi la Oh scusa Smettila di colpirmi Ti stanno alla terra Ma dove dobbiamo andare? Ti seguo adesso Cioè ho preso No no Spendi la roba tu Eh cosa? Non so c'è solo carbone Stai il fer o qua? Eh sto prendendo quest'altro fer Ti sento laggare Stai facendo laggare anche a me Perché le server ce l'hai tu Ho esplorato tutta la maniera Quasi tutto Quasi tutto Esplorato tutta la maniera Ti piace esplorare la maniera? Sì a me sì Ma che si capite? Così non esce Posta pure la Ah ho preso tanto fer Ah Così non spawna Non spawna Non spawna Non spawna Non spawna Capite? Non spawna Non spawna Non spawna Non spawna Non spawna Cattivo 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 Cattivissimo È morto Si è suicidato Io leggo il tuo nome Ah sei andato qua giù Eccolo Ciao Tutto bene? Ho trovato qualcosa? Qualcosa? È primo No non è niente C'è uno zombie C'è un creeper Qui c'è qualcosa Voglio vedere Qualcosa C'è qualcosa Mamma Quasi finito il peccone Arrendetevi Sciacchi Qui c'è un sacco C'è cosa C'è un sacco C'è un succo sacco Sto finito le torce Ce l'ho io le torce Ancora? Si Ma non me le date tutte No No Metà erano per me C'è un creeper qui Come lo faccio saltare in aria? Aspè Gesù ha vendato la lana La lana? La lava? La lana Ma perché? Che devi fare con la lava? Ho fatto saltare in aria il creeper con la lava Perché? È perché stava bloccato E in qualche modo dovevo uccidere Ok Ma che livello sei tu? Che livello sei? Un'altra cosa che dobbiamo fare Dobbiamo fare Ah comunque siamo quasi a 17 minuti Cioè per il momento Ho trovato una grotta con la lava Forse c'è Ci possono essere Ma tu credi che velocizzi questo? No no Penso Sia meglio fermarci Facciamo una cosa Esploriamo Cerchiamo di esplorare un po' la grotta Senza registrazione A meno per posizionare alcune torce Senza comunque toccare le cose Cioè a meno Per abbientarci un po' Perché mi trovo un po' disorientato Sinceramente adesso Cioè non riesco a muovermi bene Poi comunque può diventare noioso Perché alla fine Stiamo solo mettendo torce E guardando Non è che sia cosa stiamo facendo Ma io alla fine me l'ho fatto questo Ma cosa? Che ho messo torce E girando per E appunto Questo sto dicendo Ma dove sei tu? Ah stai qua Mi vendo Sì ma posso farti una domanda? Dimmi Come torniamo indietro? Eh lo sai che ci stavo pensando Ma come tanto siamo arrivati E appunto Da dove siamo Ci siamo persi Va bene ragazzi Mentre noi ci siamo persi Cioè mentre Però sempre mentre Ci vediamo nel prossimo episodio Sperando comunque Di riuscire ad uscire da qui Posizionare un po' di torce E abbientarci un po' Cioè capire dove siamo E coordinarci Quindi ragazzi Nel prossimo episodio Continueremo l'esplorazione bene E cercheremo di Di vedere la strada Per tornare indietro Perché Tornare indietro? Secondo me Vammi a tornare indietro Vammi a tornare indietro Perché vammi a tornare indietro? Non lo so Ah Sono caduto pure io Ora abbiamo peggiorato la situazione No no Già sono andato Ah sì va bene Comunque ragazzi Ci sentiamo nel prossimo episodio Qui da Yamamoto Alcantos Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.